questa è la zona giorno con la vista sul parco molto bella passiamo sesto piano e l'ultimo piano del palazzo questa è la cucina che è un po' piccola però credo si possa allargare eventualmente usando questo spazio ci sono diversi closet il bagno si trova nel mezzo e questa camera che è molto larga e anche questa con una bella vista sul parco e due closet quindi molto spazioso